Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. ...democratico, ma oggi più che mai nelle vesti di Presidente della Regione Emilia-Romagna, anche diciamo che il modo in cui è vestito ci racconta molto di come ha passato le ultime ore. Ben rivisto intanto, Presidente. Grazie per l'invito. La ringrazio. Sono tre giorni che non dormiamo, ma è il minimo che possiamo fare come istituzioni. Sono appena rientrato pochi minuti fa. Ho passato la mattinata prima a Faenza con il prefetto di Ravenna e tutti i comuni del Ravennate che sono tra i più colpiti da questa drammatica piovuta. Dopo le dirò le dimensioni. Poi ci siamo spostati a Imola, la parte del bolognese più colpita da questi eventi catastrofici. Abbiamo incontrato anche lì tutti i sindaci dell'area bolognese colpita insieme al prefetto e alla protezione civile. Ieri abbiamo avuto la visita, e lo ringrazio per la sensibilità, del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, con cui abbiamo fatto nella sede operativa della protezione civile regionale a Bologna il punto sulla situazione, previsto le azioni da fare. Ha sorvolato con noi le ali alluvionati per farsi un'idea ancora più precisa. Ieri mattina avevo inviato immediatamente, firmato la richiesta di Stato di mobilitazione nazionale e ringrazio il ministro Musumeci che per conto del governo, avevo parlato anche con la Presidente del Consiglio Meloni, si è dato immediatamente da fare per concederla. Stiamo iniziando già da oggi a raccogliere, lo faremo per i prossimi giorni, la quantificazione dei danni pubblici e privati, comune per comune, perché la vogliamo inviare il prima possibile a Roma, al governo, per la richiesta di Stato di emergenza. Sono queste le procedure che si seguono per avere le risorse, spero tante che ci spettano. Già oggi c'è un Consiglio dei Ministri dove mi auguro arrivi già un primo segnale. Devo ringraziare i miei colleghi Presidente di Regione, praticamente tutti, che ci hanno mandato, ci hanno dato una mano, come solitamente facciamo anche noi quando loro hanno bisogno. Ci racconta delle richieste che farete al governo, delle risposte che state già ricevendo, come in parte ha detto e che immaginate di ricevere nelle prossime settimane, ma partiamo dalla cronaca, andrei da Elena Testi con il racconto delle immagini. Elena dove sei? Grazie.